Pesaro, Capitele della Cultura 2024, puntini puntini di impresa. È il titolo del convegno che si è svolto in due giorni, organizzata dalla Compagnia delle Opere, nella provincia di Pesaro. Un convegno che possiamo definire itinerante, perché nelle giornate del 20 e del 21 giugno ha toccato diversi punti della nostra provincia, tra i quali Cartoceto, per poi avere il suo apice nella serata e nell'organizzazione di questo meeting qui presso l'Otter Charlie di Pesaro. Tutto parte dalla ospitalità a questi imprenditori che vengono da tutte le parti d'Italia per onorare Pesaro Capitale della Cultura. E noi abbiamo aggiunto di impresa. Ci siamo chiesti ma perché la cultura centra così profondamente con l'impresa? Ne avremmo voluto fare quasi un grande expo delle aziende pesaresi che incontravano i loro corrispondenti colleghi di altre parti d'Italia. Ma per cercare di agevolare i tempi e le modalità abbiamo pensato ad un video. Ad un video che è un collage di emozioni, di storie, di imprenditori di questo territorio. Abbiamo raccolto una trentina di testimonianze. E il bello di tutto questo firouge che collega tanti interventi è proprio il guardare al fatto che il bello di questo territorio, la storia di questo territorio ha veramente seminato un germe in ciascuno di questi imprenditori per avere coraggio, per avere anche orgoglio di portare avanti la loro opera. Vittorio Livi, qui c'è una modalità nuova di approcciare il mondo della produttività. Qui c'è la volontà di andare avanti. Sicuramente l'esperienza che lei ha condotto nella sua impresa può essere davvero utile per comprendere un caso di come poterlo fare. Per imparare a conoscere il mercato internazionale perché le opportunità sono sempre maggiori in qualsiasi settore. Solo che quello che ieri lo facevamo in maniera spicciola, l'acqua di rosa, non sapevi come chiamarlo, oggi invece va fatto in maniera scientifica. Cioè bisogna andare nel paese, studiarne le abitudini, i bisogni, i costumi e poi presentarsi dando a loro quello che naturalmente sono le loro esigenze. Ma comunque tenendo sempre presente che il made in Italy è una cosa ambita in tutto il mondo. Noi vediamo che nel mondo giovanile c'è molto disimpegno, molto disinteresse. È come se tanti giovani non trovassero motivi buoni, belli per impegnarsi, per essere, per lavorare, per studiare, per mettere su famiglia, per fare figli, come si diceva un tempo. Io penso che le iniziative come la nostra nel mondo dell'educazione, nel mondo del sociale, possano portare un grande contributo anche alle imprese tradizionali, al for profit, per una ripresa di vigore, di energie. Abbiamo molto bisogno di ritrovare un entusiasmo nuovo. Bisogna ritornare a pensare il lavoro come un'occasione di crescita, di capire cosa c'entra con la propria vita e perché è una strada per realizzare la propria vita. Di cui il lavoro, essendo l'80% della giornata, fa parte. Questa è una sfida che abbiamo a cuore, che parte dai giovani, ma che coinvolge tutti quelli che oggi affrontano la sfida del lavoro con una domanda di senso molto forte.